... Amici struttivi, benvenuti al palazzo Nero Carina Linnua. Romagna è il tuo ringrazio per la partecipazione. Tra pochi istanti avrà inizio l'incontro di Palamano Romagna è il tuo contro Lampra. Secondo incontro di ritorno, un pleo di serie a Gironi Medi. Lo sponsor dell'Europa è detto di presentare le formazioni in campo. Per la Palamano Ambra con il numero 17, Ballini. Con il numero 77, Chiara Monti. Con il numero 8, Dei. Con il numero 7, Stefano. Con il numero 5, Di Marcello. Con il numero 8, Di Marcello. Con il numero 73, Faggi. Con il numero 22, Mannori. Con il numero 13, Maraldi. Con il numero 3, Morini. Con il numero 24, Naldoni. Con il numero 16, Fricci. Con il numero 9, Raupenas. Con il numero 25, Margheri. Allinatore, Borlacco. Con il numero 24, Bertulli. Con il numero 24, Bertulli. Con il numero 22, Bartulli. Con il numero 12, Castiglani. Con il numero 7, Santini. Con il numero 19, Ceso. Con il numero 21, Biocchieri. Con il numero 20, Dallaglio. Con il numero 11, Rossi. Con il numero 17, Passinari. Ma un'età del Passinari. Il rigolo del gruppo, i signori, Carreva. Di Padevana. E il riso di un vinto. A tutti un buon divertimento. Il numero 17, SanJI. Allinatore, c' buat. Il numero 15, SiQ. Allinatore, c'en basato con il numero 13, top. L'oren았어. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.